Mi dispiace sicuramente perché lo ritengo un bravissimo ragazzo, un grande professionista. Non posso entrare nel merito perché non conosco quello che è successo e quindi è evidente che non mi sbilancio. Fa parte di quelle casistiche anche sfortunate perché è un attimo di giornali che sia stato preso involontariamente, quindi non vado oltre se non nel sottolineare come qua sia comunque un grande professionista.